Ciao ragazzi, ciao! Mi chiamo Borri Giordano, sono il CEO della 4Element Hospitality, seguo il gruppo 4Element Hotel, compagnia che prevalentemente lavora in Russia da qualche anno se non decenni, ma al momento fermo l'Italia in quarantena. Come sta andando in Russia? In Russia sta andando un po' come dappertutto, sia per una questione di risposta di mercato che per le limitazioni governative abbiamo che l'occupazione alberghiera si ridotta del 90%, lo stesso periodo dell'anno scorso eravamo intorno al 70-72% media mensile, oggi arriviamoci a no al 10. C'è da dire che il governo ha diviso le categorie alberghiere in due gruppi, il primo gruppo è l'albergo business di città e il secondo gruppo è l'albergo leisure. Per quanto riguarda il secondo gruppo ha deciso proprio per la chiusura, visto che la gente non può uscire è inutile che si lasci in aperto alberghi leisure, quindi spa, fuori città, montagna, mare eccetera, mentre invece gli alberghi di città sono lì per garantire dei servizi per coloro che per motivi di lavoro devono spostarsi comunque. La decisione di rimanere aperti viene da alcune necessità. Necessità numero uno, io comunque per legge in Russia non ho la cassa integrazione, quindi devo pagare gli stipendi. Se li mandassi in ferie oggi come oggi, dovendo durante le ferie pagare come lo stipendio medio degli ultimi tre mesi, gli salari mi costerebbero di più che lavorare. Perché? Perché abbiamo un sistema di pagamento di stipendi diverso da quello che è il sistema orario italiano. Noi paghiamo una metà dello stipendio fisso e una metà dello stipendio variabile secondo degli incassi, secondo dei dipartimenti, secondo delle posizioni, eccetera. Quindi a dire la verità rimanere aperto mi fa spendere in questo momento di meno in termini di cash flow. Ma visto che io, essendo italiano, ho visto nascere la problematica del virus e quindi l'importanza di altre procedure, oltre a quelle normali per la pulizia e per il contatto tra il personale e i clienti e gli ospiti, sono riuscito a organizzarmi un po' prima degli altri perché appunto la chiusura in Russia è arrivata circa 40 giorni dopo della nostra. Ci siamo organizzati un po' come tutti, quindi limitare la partecipazione dello staff, limitare quando è possibile lavorare da casa, quando è possibile cercare di organizzare zone, zone solo per questo dipendente, zone per questo dipendente, come gruppi di dipendenti. Per quanto riguarda i clienti abbiamo cercato di mettere dei totem per fare check in e check out, mentre il contatto con il personale viene limitato all'utilizzo dei app e utilizzo dei telefoni. Quindi diciamo che ci stiamo riuscendo, ma ci stiamo riuscendo perché l'occupazione è quella che è, se dovessimo avere un'occupazione regolare chiaramente non saremmo all'altezza, ma al momento con l'occupazione che c'è riusciamo a mantenere le distanze, mantenere la sicurezza per quanto riguarda il team, che sono i tanti, che per quanto riguarda gli ospiti. Tornare alla normalità. Secondo me la normalità non torna come uno switch on, switch off. Sarà una cosa molto sequenziale. Prendiamo il market mix, noi abbiamo individuali, i corporativi, il mice, il leisure individual, il leisure group, i gruppi per i mice, individuali per i mice. Quindi ogni segmento ha i suoi tempi di ripresa. Se un discorso di individuale laser può partire in un minuto utilizzando meglio le otter, magari uscendo con un'offerta speciale e quindi il weekend se lo possono fare, mentre tutto quello che sono gli altri gruppi, soprattutto corporativi e mice, ci vogliono tempi, ci vogliono mesi di preparazione, agende, organizzazione. Un grosso evento come una fiera turistica o una fiera agroalimentare servono mesi e mesi di preparazione per l'organizzazione. Quindi il market mix legato al mice arriverà tra, non so, tra un anno. E qui vale il discorso del management in tante crisis. Quindi occhio molto importante con il cash flow e cercare di venire fuori con delle idee di marketing che stiamo studiando da sempre, ma ancora non siamo i geni che vorrei essere, sinceramente. Ma il fatto di rimanere aperti sicuramente il primo beneficio è quello di avere ancora di più creato una loyalty e un family feeling con lo staff. Io ho qualcosa come 350 dipendenti a tutt'oggi, forse 330 giornalmente cambiano le cifre e non ho guardato ancora di questa di quest'oggi. Ma il fatto di non chiudere, di esserci, di prendersi cura di loro, di parlare, di dimostrare la trasparenza di come stiamo andando e di quello che si spera, delle aspettative, di come si va parlando e facendo delle, non delle promesse, ma facendo delle strategie insieme, si crea quel feeling che è unico. E noi sappiamo nel nostro mestiere quanto è importante avere un team che abbia la stessa visione, che abbia gli stessi ritmi, che abbia la stessa voglia di riuscire. È la cosa probabilmente fondamentale, cioè i vene, i mattoni, la location, eccetera, eccetera, però se non si ha poi un team che almeno rispecchi la struttura, che rispetti le aspettative che uno regala con il marketing, che uno offre con il marketing, poi alla fine il cliente non torna e se non torna il business finisce presto.